Per cui io ci tenevo a dire che l'Università di Messina fa tanto lavoro, il lavoro l'ha fatto sin dal momento dell'insediamento di questa amministrazione ed è da due anni e mezzo, anzi buoni tre anni quasi, che l'Università di Messina piano piano ha affermato un'identità sul panorama internazionale. Quest'identità piano piano comincia ad essere riconosciuta e i risultati si vedono. L'Università di Messina attrae studenti stranieri, come mai è successo nel passato. Quest'anno abbiamo circa un centinaio di matricole, una parte è finanziata con borse di studio, una parte viene qua a fare interamente le tasse universitarie che sono dovute all'Ateneo. Da dove vengono? Vengono da, ho fatto quel conto, sono 27 paesi, quindi vengono da diverse parti del mondo. Afghanistan, Algeria, Argentina, Bielorussia, Brasile, Vietnam, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Giordania, Kosovo, Honduras, India, Indonesia, Israele, Jamaica, Kherzikistan, Nigeria, Palestina, Russia, Ruanda, Siria, Togo, Tunisia, Ucraina e Uzbekistan.